Due punti di distacco e tanta voglia di giungere a Invetta, da una parte il Cosenza che lassù non c'è ancora mai arrivato, dall'altra la Casertana che invece ha comandato per qualche settimana il girone. Le due squadre chiuderanno il sabato di Lega Pro al Gigi Marulla nella sfida in programma alle 20.30, lì, dove nessuno ad oggi è riuscito a strappare via l'intera posta in palio ai Silani, lì, dove la squadra della Regge proverà a riscattare il cappò rimediato nella sfida d'andata. La Casertana è la vera sorpresa del campionato di Lega però. Romaniello ha trovato la quadratura del cerchio, difesa 3 imperniata sugli affidabili Reinone, Idda e Dalterio in modulo, che può variare dal 3-5-2 al 3-4-1-2 a seconda delle circostanze e con elementi di grande pericolosità in fase offensiva come De Angeri, Salfageme, il Salentino Negro. A gennaio è arrivato anche Luca Giannone, ex Crotone Bologna, puntellare, un attacco già super prolifico. Insieme al Foggia, i rosso-blu campani possono vantare infatti il miglior reparto avanzato del torneo. Tra le teste di serie, però, è quella che ha la peggior difesa. La Casertana conceda parecchio sulle fasce e patisce i calci piazzati, punti deboli, su cui mister Rosselli sarà chiamato a costruire il successo, a dirigere al match l'arbitro Luigi Pillitteri della sezione di Palermo. Alessio Bonpasso per la CNews24.